Musica Promuovere percorsi di sensibilizzazione e di informazione sociale relativi a tematiche psicologiche e ambientali, quindi provvedere alla ricerca scientifica in questo settore e formare quelle professioni che si occupano a vario titolo di persone, organizzazioni e gruppi. Nessuno escluso oggi va alla scoperta della sezione a retina dell'ANSES. L'ANSES nasce dalla condivisione di idee ed esperienze di un gruppo di professionisti provenienti da differenti ambiti lavorativi. Qual è il loro intento? L'ANSES nasce dall'idea di una collaborazione tra diverse professionalità proprio per rispondere alle diverse richieste e ai bisogni della persona che possono essere molteplici. Le tematiche richieste possono riguardare diversi settori e le problematiche riguardanti lo stress di vita o disagi particolari. Sono rivolti sia al singolo che ai gruppi o all'associazione o alle istituzioni. Tra i servizi offerti dalla sezione a retina dell'ANSES c'è anche quello relativo allo sportello stress. Come funziona e a chi è rivolto? Allo sportello stress può rivolgersi chiunque vive un momento di difficoltà che possono essere legate allo stress, psicofisico, per malattie o per disagi. Lo sportello stress è operativo ad Arezzo tutti i giovedì dalle 17 alle 19 in piazza Guido Monaco 5. All'interno dello sportello stress lavora un team multidisciplinare. Perché? Proprio per rispondere alle richieste specifiche di una persona, di un individuo. Fatta ogni persona poi riceve una risposta personalizzata a seconda della problematica che presenta. Grazie a tutti.